Continuano le iniziative di Mare Vivo Lazio sulle spiagge della nostra regione. A Marina di San Nicola, nel comune di Ladispoli, bambini e famiglie hanno scoperto la natura del mare. Questo mese di agosto termineranno i Blue Days sulle spiagge, ma torneremo ad ottobre con le scuole che vorranno aderire. Questo progetto infatti è gratuito e riguarderà gli istituti comprensivi di Ladispoli, Ostia, Santa Marinella ed Anzio. Sono più curiosi i genitori o i bambini? Entrambi, perché le nostre attività sono adattabili sia ai bambini che agli adulti. Siamo un gruppo di biologi marini ed esperti di educazione ambientale ed edutainment. Quindi queste attività hanno riscosso un particolare successo quest'estate anche attraverso i gestori degli stabilimenti balneari. Iniziativa questa molto apprezzata dallo stabilimento che li ospita. Splendida e stupenda, io ribadisco che sarebbe bellissimo 365 giorni l'anno. Far conoscere il mare alle persone, alle famiglie e bambini credo che sia importante. L'educazione ai bambini, ai turisti, al rispetto dell'ambiente, del posto dove ci troviamo e apprezzare questo splendore.